ananciقتurutututututututututututututututututututu Favolo anziano! Io questo film non lo farò mai! Io voglio fare un film autoriale! Tu ho trovato il protagonista, che ti voglio. Deverdonizzare! Chi è questo? San Giovanni. Perché sei così bea? Guardate. Perché me parli in veneto? È Romana Rutte al cazzo! Un anziano commerciante è stato taglieggiato ad un gruppo di criminali della Mala di Ostia. Da Mala di Ostia? Oddio signor Carlo! Guardi. Ma m'hanno decapitato. Voglio fare i nomi e i cognomi. E cala. Siete fidanzati? No. Siamo amici. Bugiardo! Bam! Famolo strano. Come dicevi dei nini in Viaggi de Nostra. Piacere io, Anno. Piacere Jessica. Tutte le strade portano a perdone. Dov'è che ci siamo visti? Ma Carlo, sono Fabio. Fabio Traversa. Fabris! Compagni da scuola. Ho visto a tuoi film? Fai ridere. Pure io ho visto i tuoi gol. Sei sempre il top. Guarda allo stacchio il top. No, scusa Giuliana, ma quello che è? Ma perché? Non ti piace? È fuori luogo. Nella casa originaria c'era un quadro della Madonna. Siamo rubati i vestiti qua. Come torniamo a Roma? Ma perché appari sempre nei miei incubi a rompere i coglioni te? Attenzione! Ma che succede? Che succede? Questo ti ha fatto male! Quindi è uno così. Non mi hai rotto il cazzo. Aio! Ma che sta scemo! Abbiamo finito il carburante. Sto perdendo quota! Ti avevo dato un tranquillante, l'hai preso? Se l'ho preso il treno ma l'ho fatto un cazzo! Fermi! Fermi! Andrea! No! No! Venite qui! L'ambulanza che è 130? 112! 115! 119! 119 in autobus! Che state facendo! Che delusione! Grazie a tutti.